Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. In Fipili, possibili disagi per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, tra Montelupo e Ginestra, nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla statale 330 in provincia di Massa. Troviamo la chiusura in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra, deviazioni in loco. Fine a Pistoia, per lavori di ripristino strutturale al viadotto sul torrente Ombrone, in località Capostrada, è chiusa la bretella di collegamento tra la SR66 Pistoiese e la statale 716 Raccordo di Pistoia. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo in settimana nuova, tra i cantieri al via, lavori di asfaltatura in Viale Petrarca e nei parcheggi di Viale Corsica e Via del Terzolle e lavori per l'estensione delle reti idrica e fognaria in via del Ferrale. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!